Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo. Oggi parto subito perché i discorsi sono abbastanza lunghi e abbastanza impegnativi. Mario avrà pazienza, vero? Ha detto di sì che ha pazienza. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesà 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo che da questi microfoni, ciao Mario, buon viaggio, da questi microfoni scegliamo noi l'argomento di cui parlare, scegliamo noi anche con chi parlare e scegliamo noi anche come parlare. È chiaro questo? Pertanto le provocazioni a noi ci interessano molto, anzi non ci interessano assolutamente. Anche se conosciamo molto bene il mondo che abbiamo attorno e cerchiamo di arrangiarci al meglio. In questa trasmissione, la seconda parte delle trasmissioni, parliamo di Giuda Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. In questo libro sono andato a riprendere il Vangelo di Tommaso Didimo, quello che è stato trovato sotto le sabbie di Nagamadi e me lo sono studiato. Me lo sono studiato perché? Perché questo Vangelo non appartiene assolutamente alla tradizione cristiana. Questo Vangelo appartiene alle varie tradizioni misteriche, alle varie tradizioni pagane, dell'ultimo paganesimo e gli insegnamenti che ci sono sono quelli che vengono rubati da squalli di figuri come Marco, Matteo, Luca e Giovanni per costringere chi non si può difendere in ginocchio. Ormai chi segue le trasmissioni da quattro anni sa perfettamente a cosa ci riferiamo. Ebbene, nell'analisi di questo Vangelo non faccio altro che mettere insieme i principi enunciati dal Vangelo di Tommaso Didimo e avvicinarli a quelli che sono l'uso che degli stessi principi ne fanno invece i cattolici. Ebbene, questi due tipi di insegnamenti portano in direzioni completamente diverse. Mentre in Tommaso Didimo, con tutto quello che si può dire, è un Vangelo pagano, nel senso che va verso la costruzione dell'essere umano, va verso la costruzione del Dio che cresce dentro l'essere umano, va incontro agli dei del mondo circostante, i Vangeli ufficiali hanno un solo scopo, costringere gli esseri umani in ginocchio e, in ultima analisi, stuprare i bambini perché questo è l'unico modo esistente per costringere gli esseri umani in ginocchio. E abbiamo già spiegato a questi microfoni come nei Vangeli ufficiali, ad imitazione del loro Cristo, ad imitazione del loro Gesù, lo stuprare i bambini è un insegnamento del pazzo di Nazareth. E' un insegnamento preciso, come quello di sgozzare i nemici, sgozzare chi non si può difendere, è un insegnamento dottrinale preciso del pazzo di Nazareth, davanti ai quali i cristiani costringono in ginocchio i loro figli. Costringere i bambini in ginocchio per noi significa stuprare i bambini, cioè stuprare il futuro, stuprare la capacità di determinazione dei soggetti rispetto al futuro. Dopodiché chiaramente i cristiani accusano gli altri di queste malversazioni. Perché? Perché bisogna criminalizzare, bisogna colpevolizzare, bisogna indicare, si dice sei tu un malvagio al fariseo, il pazzo di Nazareth, questo lurido pazzo, va a dire gli altri chi sei malvagio, ma dove sono malvagio? Tu come puoi dire cose buone e malvagio come sei? Veramente il malvagio in questo caso risulta lui e non il fariseo. Se abbiamo un minimo di obiettività con cui guardare le cose, se poi naturalmente uno si diletta di nazismo, dice io sono nazista, chiaramente per lui i campi di sterminio erano doverosi per Hitler e come per i cattolici è doveroso bruciare, stuprare, uccidere, massacrare come per 1600 anni hanno fatto e come stanno dimostrando oggi di fare. Ricordiamo che il campo di sterminio dell'Africa è un campo di sterminio cattolico, la strage per Aizia è una strage cattolica. Buon, del Didimo Giuda Tommaso, l'ultimo stregone pagano, siamo arrivati al paragrafo 47. Se qualche volta mi trovate ad incepparmi nella lettura è dovuto a due fattori, prima di tutto il mio modo di scrivere, che non sempre è preciso, cioè il mio italiano è molto soggettivo. E il secondo è che il libro che ho sotto gli occhi è un carattere 10, cioè un carattere molto piccolo, per cui i riflessi della luce a volte non mi permettono di afferrare bene i caratteri. Sono sempre libri da circa mezzo milione di caratteri, cioè libri normali, ne ho scritti 11 e ne ho altri due in preparazione più altre monotematiche. Per cui non è che il lavoro di costruzione del paganesimo politeista sia una cosa semplice, si tratta di rivedere tutta la concettualità su cui si fonda la società attuale, su cui si fonda la relazione fra l'uomo e il mondo. Non è così semplice e probabilmente alla fine di tutto il mio lavoro avrò soltanto iniziato la trasformazione. Bene, vi ricordo allora che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale Parmesan Otto Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e carrella postale 53 Marostica Vicenza, vi ricordo che io sono meccanico, apprendista stregone e guardiamo dell'anticristo e esercito le mie prerogative. Ah, ho anche il diritto al titolo di pontefice, se vi interessa, come ogni altro pagano oggi, come oggi è il diritto al titolo di pontefice. Poi abbiamo degli altri titoli, ma insomma sarebbe un po' troppo lungo. E sono tutti titoli da potere di essere, cioè sono tutti titoli che gli esseri umani si prendono, non che qualcuno ti dà. Passiamo allora al paragrafo 47. Gesù disse, da Adamo a Giovanni Battista nessun nato da donna fu più grande di Giovanni Battista, sicché, davanti a lui, egli debba abbassare gli occhi. Tuttavia vi dissi, tra di voi, chiunque sarà piccolo conoscerà il regno e sarà più grande di Giovanni. Il nocello su cui si articola il paragrafo sta nel nato da donna. Secondo Tommaso nessun nato da donna, da Adamo a Battista, fu più grande di quest'ultimo. Chi può essere più grande di un nato da donna, chiunque gli sia? Chi non è nato da donna, ma è nato da un essere umano. Chi nasce da donna è un essere della natura, il quale, per le sue azioni, può essere considerato più o meno grande. Un essere umano adulto, come ogni altro essere della natura, produce il proprio corpo luminoso e lo sviluppo di questo qualifica la sua grandezza nell'esistenza come essere della natura, dove la grandezza non è determinata dal ruolo sociale che ricopre, ma dallo sviluppo della sua volontà, delle sue determinazioni, dallo sviluppo del suo potere di essere. La piccolezza che Tommaso indica come esempio non sta nel ruolo sociale o nell'uso della volontà degli esseri umani, ma nell'atteggiamento defilato che gli esseri umani hanno mentre costruiscono il loro corpo luminoso nei confronti dei richiami del potere di avere. La grandezza nei confronti della vita sta nelle azioni attraverso le quali si costruisce il proprio corpo luminoso, nell'esercizio delle proprie determinazioni, nella costruzione di se stessi, nell'infinito dei mutamenti. E qui non c'è confronto con i Vangeli ufficiali. Quello che voglio dire io, quando io uso il termine determinazioni, ve lo ricordo, ve l'ho già detto un'altra volta, ma tanto vale che lo ripeta, lo uso come espansione del significato che c'è all'interno della filosofia deterministica, del determinismo. In pratica le determinazioni sono le relazioni obbligatorie fra un essere, un ente, una cosa, e l'oggettività in cui quella cosa si sviluppa. Ho già fatto l'esempio, noi esseri umani abbiamo le mani e relazioni per il nostro sviluppo nei confronti del mondo circostante le costruiamo attraverso le mani, cioè una parte delle nostre relazioni le costruiamo attraverso le mani. Questa prerogativa che noi abbiamo, esseri umani, sono le determinazioni, cioè noi non possiamo far a meno di costruirci se non attraverso l'uso delle mani. Bene, la volontà nelle determinazioni significa usare la propria volontà, il proprio impegno, la propria trasformazione nella pratica di ciò che siamo. Per cui esiste una determinazione, o delle determinazioni per mio nonno quando era nel brodo primordiale, esisteva delle determinazioni per mio nonno quando era un insetto, esisteva delle determinazioni quando mio nonno era, non so, una lucertola, ed esistono delle determinazioni che io ho oggi in quanto essere umano. Tutto questo modo di essere non si può prescindere da ciò che siamo, cioè io non posso costruirmi al di fuori di ciò che sono, io sono un essere umano e devo praticare le determinazioni dell'essere umano. Non so, l'essere serpente pratica le determinazioni dell'essere serpente, l'essere terra pratica delle determinazioni dell'essere terra, per cui una via da conoscenza non è mai uguale ad un'altra. Boh, detto questo, sperando che qualcuno l'abbia capito, passiamo al paragrafo 48. Gesù disse Non è possibile che un uomo cavalchi due cavalli e tiri due archi, non è possibile che un servo salva a due padroni, onorerà l'uno e disprezzerà l'altro, nessuno beve vino vecchio e desidera subito vino nuovo, ne mettono vino vecchio in un otre nuovo per tema che guasti, non cuciano una pezza vecchia su un vestito nuovo per tema che ne risulta uno strappo. Dunque, vediamo il commento. Non è possibile praticare il potere di avere e il potere di essere. Le due cose sono antitetiche. Si può articolare la vita con l'uno o con l'altro. A volte si possono fare delle mediazioni, ma queste sono sempre pericolose, come cucire un pezzo di stoffa vecchia su un abito nuovo, oppure mettere del vino nuovo in otre vecchi. Si pratica un sistema di vita in quanto viene fatto proprio e si disprezza l'altro in quanto imposto da condizioni esterne. Il potere di essere e il potere di avere non hanno mediazioni. L'uno si oppone all'altro. Uno è negazione dell'altro. La ragione di chi vive praticando il potere di avere non riesce nemmeno ad immaginare gli elementi e le espressioni concernenti al potere di essere. La ragione di chi vive praticando il potere di essere guarda sempre sgomenta, incapace di descrivere, inquadrando nella sua logica, chi pratica il potere di avere. Questa relazione è chiara nelle incomprensioni fra il popolo degli uomini e i conquistatori bianchi. Non c'è in realtà nulla da comprendere, ma tutto è azione, anche quando quest'azione è solo distruzione. Il loro modo di porsi davanti alla terra era opposto. Il popolo degli uomini apparteneva alla terra di cui erano parte. I bianchi volevano appropriarsi della terra per sottomettere altri esseri umani. C'erano dei bianchi che sviluppavano sentimenti di amicizia e comprendevano la tragedia che il popolo degli uomini stava vivendo. E l'unica cosa che sapevano proporre era quella di invitare il popolo di uomini a diventare bianchi come loro, praticare il potere di avere, accettandone l'aspetto più miserabile. Questi bianchi odiavano tanto profondamente gli aspetti del potere di essere che leggevano nel popolo degli uomini da doverlo distruggere attraverso proposte di comprensione che facevano al popolo degli uomini sorretti dall'incapacità soggettiva del potere di essere a sottrarsi dall'orrore delle armi cristiane. Non si può cavalcare due cavalli o tirare due archi. Questa parte nei Vangeli Ufficiali viene trattata come al solito per costruire sottomissione. In Matteo troviamo qualcosa di simile nella parte finale del suo Padre Nostro. Quell'orrore al quale si sono costretti milioni di bambini a ripetere all'infinito costruendo ossessione e fobie. Dice Matteo, nessuno può servire a due padroni perché o disprezzere l'uno e amere l'altro o sarà affezionato ad uno e trascurere l'altro. Non potete servire a Dio e alle ricchezze, perciò vi dico non siate solleciti per la vita vostra, di quel che mangerete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietano, non raccolgono in granai e il vostro Padre Celeste li nutre. Or non valete voi più di loro. E chi di voi, per quanto si preoccupi, può raggiungere alla durata della sua vita un solo cubico, è perché darsi tanta pena per il vestito. Guardate come crescono i giri del campo, non lavorano, ne filano, eppure vi assicuro che nemmeno Salomone in tutta la sua gloria non fu mai vestito come uno di essi. Or se Dio veste così l'erba del campo come oggi è e domani viene gettata nel forno, quanto più vestirà voi, gente di poca fede. Non vogliate dunque angustiarvi dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, di che ci vestiremo. Di tutte queste cose infatti si danno premura ai pagani, già, e loro i cristiani le rubano. Ora il Padre vostro sa che avete bisogno di tutto questo. Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno date per giunta. Non vogliate dunque mettervi in pena per il domani, perché il domani avrà cura di se stesso. A ciascun giorno basta il suo affanno. Matteo, assentore dell'insegnamento misterico, ma non ne comprende il significato. Cosa si oppone all'asservimento del suo Dio padrone? Quale altro padrone può servire gli esseri umani? Cosa impedisce agli esseri umani di assalversi al suo Dio padrone? Certamente la voglia di denaro, la ricchezza. A Matteo spugge l'intero insegnamento misterico, in quanto egli non concepisce gli esseri umani come esseri che alimentano il Dio che cresce dentro di loro, ma li concepisce soltanto come bestiame sottomesso, popolo bue. La dualità fra potere di essere e potere di avere per lui è completamente sconosciuta. Pertanto si inventa la cupidigia, come se la brama di possesso e di ricchezze non avesse caratterizzato tutto il comportamento della Chiesa Cattolica nel corso dei secoli, con la sola differenza che per la Chiesa Cattolica la ricchezza doveva essere illimitata per garantirsi il possesso e lo stupro degli esseri umani, mentre per l'essere umano la ricchezza consiste soltanto nel garantirsi il necessario per non vivere nell'indigenza e non essere costretto a mendicare l'indispensabile. Di cosa deve privare la Chiesa Cattolica l'essere umano? Del vestito, del cibo, del bevante. L'insegnamento di Matteo deve garantire alla Chiesa Cattolica individui assolutamente immiseriti, pronte a consegnare i propri figli allo stupro per un bicchier d'acqua o un tozzo di pane. Perché il disprezzo per i pagani? Loro costruiscono il futuro, loro arano, mietono, riempiono i granai in modo che nessuno debba soffrire la fame. I cristiani si servono di schiavi per fare questo e anziché ringraziarli per il loro lavoro ringraziano Dio per lo stupro degli esseri umani che garantisce loro il cibo e la ricchezza tolta a chi non si può difendere. Mentre in Tommaso l'insegnamento invita a non mescolare valori diversi e ad affermare se stessi, in Matteo si invitano gli esseri umani alla miseria, in quanto il suo Dio provvede per loro. Tommaso dice, fatevi un vestito nuovo oppure sul vestito nuovo attaccate una pezza nuova, altrimenti può risultare uno strappo. Matteo dice invece, non fate niente, affidatevi a Dio. Così i cristiani attraverseranno la storia rubando il pane dalle mani di chi non è in grado di difendersi. Attraverseranno la storia e la storia costruendo la miseria dei popoli affinché supplichino il loro Dio perché provveda loro. Se nel Vangelo di Tommaso si rende fondamentale la contrapposizione fra potere di essere e potere di avere, nel Vangelo di Matteo la contrapposizione è fra chi è sottomesso a Dio e a chi è sottomesso alle ricchezze, dove per ricchezza non si intende la ricchezza che porta a possedere gli esseri umani, ma l'abbondanza che è lontana dalla carestia. Pertanto in Matteo si è all'opposto che in Tommaso, in quanto la sua contrapposizione è fra chi si abbandona il volere del Dio padrone che dovrebbe provvedere e chi agisce per costruire il futuro. Fra chi si sottomette rinunciando alla cultura e al lavoro per costruire il futuro. Comportatevi come gli uccelli che non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, rinunciate a determinare la vostra vita, così sarete bestiame possedute dal Dio padrone. Questo è il messaggio di Matteo. Proprio attraverso questo passaggio la Chiesa Cattolica ha distrutto tutte le culture che non era in grado di dominare. Quale perversione nel Gesù di Matteo? E passiamo al paragrafo 49. Gesù disse, se in questa stessa casa due fanno pace, l'uno con l'altro diranno ad un monte, allontanatevi e si allontanerà. Quando si risolve una contraddizione che aveva attanagliato la nostra attenzione, si dispone di una grande quantità di energia vitale che prima era impegnata a risolvere la contraddizione stessa. Quando le parti che si confrontano all'interno della contraddizione la risolvono, concentrando la loro energia vitale su un soggetto diverso, questo sarà avvolto, annichilito, allontanato per la scarica di energia vitale che ne riceverà. La montagna in questo caso rappresenta la condizione che opprime, dove l'oppressore può agire nella misura in cui i soggetti oppressi sono in contrapposizione fra loro. Fintanto che sono in contrapposizione fra loro, la contraddizione che opprime non può essere rimossa. Quando gli oppressi risolvono le loro contraddizioni, fanno pace, possono unire le loro forze per allontanare l'oppressore. Questo è il senso di quanto espresso in questo paragrafo che si ricollega a un paragrafo successivo, il 106. Distinguere nell'azione il principale dal secondario, risolvere il secondario per agire sul principale. Due sono i paragrafi con cui vogliamo mettere in evidenza i significati e entrambi li troviamo in Matteo. Nell'episodio dell'epilettico guarito, a proposito della cacciata dei demoni, dice Matteo, perché noi non l'abbiamo potuto scacciare? Gesù rispose, per la poca fede, in verità infatti vi dico, se avrete fede quanto un granello di senape direte a questo monte spostati più là, esso si sposterà e niente vi sarà impossibile, ma questa razza di demoni non si scaccia se non con la preghiera e con il digiuno. E ancora più avanti a proposito del fico maledetto, come mai questo fico si è seccato all'istante? Gesù rispose loro dicendo, in verità vi dico, se avete fede e non esiterete, farete non solo come è stato fatto a questo fico, cioè distruggerlo, ma quando anche diciate a questo monte levati di lì e gettati in mare sarà fatto, tutto ciò che chiederete con fede nella preghiera lotterete. L'elemento in comune è allontanati monte. Cosa allontana il monte? Cosa permette all'individuo di allontanare il monte? L'unità in Tommaso è la forza che allontana il monte, il monte è la cosa impossibile, è la cosa più difficile da affrontare, è l'azione impossibile da affrontare. Cosa permette agli individui di mettere in essere questa azione? O una forza per consentire un risultato impossibile? In Matteo ha un fine e in Tommaso ne ha un altro. L'uno e l'altro portano a spostare le montagne. Cosa produce la forza attraverso la quale spostare le montagne? L'analisi delle diverse affermazioni deve tenere presente il diverso elemento indicato da Matteo e Tommaso che forma la forza per spostare le montagne, la qualità delle montagne e la finalità per cui si spostano le montagne. In Matteo la forza per spostare le montagne si produce attraverso la sottomissione fideistica al Dio padrone. La sottomissione attraverso la preghiera porta ad ottenere la forza per spostare le montagne. Ma le montagne Matteo non sono montagne allegoriche, sono montagne materiali, non in quanto montagne, ma nella loro rappresentazione materiale. La montagna del primo passo, preso in esame, consiste nella cacciata di un demone. Cacciare il Dio che cresce dentro agli esseri umani è un atto materiale ed è un'operazione difficile nella misura in cui l'individuo che costruisce il Dio che cresce dentro di lui è cosciente del proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. Nel secondo passo, preso in esame, la montagna è rappresentata dal fico. La distruzione del fico è la grande opera ottenuta mediante la fede. In Matteo la fede opera nella materialità quotidiana. Dio vi dà da mangiare, sposta le montagne, ammazza il fico. È uno strumento di intervento nel quotidiano e aiuta a modificare il quotidiano in favore di chi esprime la propria fede. La fede è un atto di magia bovara, questo va a fare virgolette ma andrebbe sottolineato dieci volte, con la quale ottenere dei vantaggi e dei poteri nel quotidiano. Non può esistere in Matteo una modificazione soggettiva dell'essere umano, in quanto essendo questo creato di magia e somiglianza di un dio pazzo è immodificabile. Dove può agire la magia di Matteo? Nella modificazione immediata e repentina dell'oggettività in cui vive per adattarla ai propri bisogni e le proprie necessità. Vi ricordate oggi vi ho detto che un individuo si adatta all'oggettività che incontra, non costringe l'oggettività ad adattarsi, ma questo è un comportamento da apprendista stregone. Il cristiano invece adatta all'oggettività a se stesso. Davanti a cotanto potere gli esseri umani devono soggiacere, perché sono come montagne che qualora non soggiaciono gli si ordina di gettarsi a mare. In Tommaso gli esseri umani non sono sottoposti a condizioni, non si sottomettono a qualcuno. Il passo è impersonale proprio perché è riscontrato nel comportamento di ogni essere umano. Quando una contraddizione si risolve, la soluzione della contraddizione apporta una tale forza ai soggetti che vi hanno partecipato da renderli capaci di imprese ritenute impossibili, il loro divenire nell'eternità dei mutamenti. La soluzione delle contraddizioni comporta una costruzione dell'individuo che ci permette di modificare noi stessi, rendendoci capaci di imprese impossibili, allontanare le montagne allegoriche che ci impediscono il divenire nell'eternità dei mutamenti. Il fine del Vangelo di Tommaso Didimo è la costruzione degli individui, il fine del Vangelo di Matteo è il possesso degli individui. E questo è l'elemento centrale che distingue uno scritto, un passo, qualcosa che sia pagano, magari anche se non pagano antico, pagano misterico, cioè pagano più recente degli ultimi secoli del paganesimo, il paganesimo morente, da quelli che sono scritti diversi, cioè praticamente monoteisti cristiani. Gesù disse, passiamo al paragrafo 50, Beati i solitari e gli eletti, perché troveranno il regno, voi infatti da esso venite e a esso nuovamente ritornerete. Questo sembra un passo quasi neoplatonico. Chi sono i solitari e gli eletti? Sono i cacciatori di conoscenza, di sapere e di consapevolezza, all'interno di un potere di avere che li vorrebbe in ginocchio, mentre distrugge la loro energia vitale. I solitari sono coloro che alzatesi dalla posizione in ginocchio davanti ad un mondo affermano, io esisto. Da quel momento iniziano un cammino attraverso il quale costruiscono il loro potere di essere, diventando eterni, mutamento dopo mutamento. Gli eletti sono coloro che per una qualche causa, sia genetica, educazionale o per una propria sensibilità, percepiscono i richiami del mondo circostante e a quel richiamo rispondono soggettivando l'oggettività in cui vivono. Questi due tipi di esseri umani, che si possono definire solitari o eletti, in qualunque situazione oggettiva si trovano ad esistere, riusciranno sempre a sviluppare il proprio corpo luminoso, partendo dalla situazione in cui vivono. Gli esseri umani nascono volontà, ma solo i solitari e gli eletti, all'interno di un dominio feroce della coercizione cristiana e cattolica in generale, ritornano volontà agendo per formare il proprio corpo luminoso. Chiunque si adegua alle aspettative del potere di avere, nasce volontà e finisce per vivere distruggendo se stesso. Costui non troverà il regno. Verrà forse un giorno in cui non saranno più solo i solitari e gli eletti a costruire loro stessi nell'infinito dei mutamenti, ma sarà l'intera specie umana. Quel giorno sarà quando il condizionamento educazionale del potere di avere, che nei paesi occidentali viene identificato con le pratiche cristiane, verrà sostituito progressivamente con elementi del potere di essere, quando il dominio coercitivo dei cattolici sui bambini verrà meno ed essi, da bestiame delle gregge, diventeranno soggetto di diritto costituzionale. E questo è un discorsetto che facciamo, un leitz motive che facciamo in tutta la nostra sociologia pagana. Passiamo al paragrafo 51. Qual è la traduzione all'interno della sociologia, all'interno del sistema sociale, di quelli che sono i principi pagani e quelli che sono i principi cristiani. Facendo un esempio davanti, non so, a un'autorità, diciamo il magistrato. Il magistrato cristiano dice, io sono il magistrato e tu fai quello che dico io. Davanti a un magistrato pagano invece non dice fai quello che dico io, ma io sono al tuo servizio. Dopodiché se tu hai commesso un reato verrai condannato, ma è il magistrato al servizio delle persone, non sono le persone al servizio del magistrato. E questo vale per qualsiasi tipo di autorità, anche l'autorità di uno Stato, anche l'autorità di una regione, anche l'autorità di un comune, anche l'autorità, qualunque tipo di autorità, è al servizio del sistema sociale, non è padrona del sistema sociale. Mentre invece il concetto cristiano del Dio padrone è il possesso del sistema sociale, è il piegare il sistema sociale a se stesso. Queste sono le due, è la differenza che c'è fra un sistema sociale pagano e un sistema sociale monoteista cristiano, cattolico in particolare. Paragrafo 51. Gesù disse se vi domandano dove venite, rispondete loro, siamo venuti alla luce, dal luogo dove la luce nacque da se stessa, si arese e si manifesta nella loro immagine. Se vi domandano chi siete voi, rispondete, noi siamo suoi figli, noi siamo gli eletti del padre vivo. Se vi domandano qual è il segno del vostro padre in voi, rispondete, è il movimento e il riposo. E questa è una cosa che non troviamo nei Vangeli ufficiali. Se vi domandano da dove venite, non costruite delle cretinerie del tipo ci ha creato un Dio pazzo, dite ciò che è, dite che voi giungete dalla luce, dal luogo in cui la luce nacque da se stessa. È il caos primordiale, è la sequenza dei mutamenti. Ogni esistente è frutto dei suoi adattamenti. Da quella luce si generarono le coscienze che si manifestano, ognuna nella loro immagine. Dal caos primordiale, la cui nascita fece sparire il buio e riempire l'abisso, viene ogni essere della natura. Proprio perché è generato, non ci può essere sottomissione. La sostanza è struttura della coscienza e della consapevolezza di ogni essere esistente. La sua volontà e i suoi adattamenti determinano le diversità dei percorsi. Alla seconda domanda, chi siete voi? La risposta è, noi siamo i suoi figli. Noi siamo coloro che alimentano la scintilla divina, la luce da cui proveniamo, facendoci dei, prendendo nelle nostre mani il nostro divenire. Dunque, noi siamo gli eletti di necessità e intento, in quanto alimentiamo la consapevolezza attraverso il nostro fare, costruendoci nell'eternità dei mutamenti, eletti dal padre vivo. Perché padre vivo? Ricordo che nel paganesimo politeista e in stragoneria, e anche in questa interpretazione, in questo caso il termine padre sta a significare due cose, necessità e intento. È già stato ampiamente spiegato questo. Perché padre? Perché necessità e intento spingono continuamente gli esseri di ogni specie a nascere e ad arricchire il proprio potere di essere, costruendosi mutamento dopo mutamento. Sono forze attive, che forniscono opportunità di eternità ad ogni essere vivente. L'ultima frase è quella che individua, dato il farsi fatto della coscienza, che si separa dalla non coscienza. E il riposo è l'azione di intento, quando il movimento, per varie circostanze, forma la concentrazione di energia vitale di sé, cosciente di sé. Il riposo è l'attimo in cui la coscienza inizia un nuovo percorso. Dal riposo nasce il movimento. Il movimento riprende in un'altra direzione, dopo il riposo. La coscienza, attraverso l'esercizio della propria volontà, accumula quantità. L'accumulo di quantità produce il riposo, che è il salto di qualità, dal quale riprende il movimento di accumulo di quantità per produrre un nuovo salto di qualità. Il movimento d'accumulo di quantità per fare un salto di qualità, questo è il segno del Padre vivo. Nei viventi della natura si rintraccia la manifestazione nella misura in cui esercitano la loro volontà, nelle loro determinazioni. e passiamo al paragrafo 52. I suoi discepoli domandarono, in che giorno arriverà il riposo dei morti e in che giorno arriverà il nuovo mondo? Egli rispose, quel riposo che aspettate è venuto, ma voi non lo avete riconosciuto. In che giorno ci sarà il salto di qualità dell'esistenza? La domanda parte dalla concezione del potere di avere, per finire con una risposta del potere di essere. La domanda è doppia. La prima parte parla del riposo dei morti, la seconda parte dell'avvento del nuovo mondo. Perché è una domanda che appartiene al potere di avere, perché i morti sono morti e non c'è possibilità di ritorno. Quando parla dei morti Tommaso, non si limita a parlare della morte del corpo fisico, ma parla della morte definitiva della coscienza. Chiedere quando, quanto non esiste, avrà riposo, è assurdo, se non nelle rappresentazioni attendistiche e illusorie di un potere di avere, che avendo distrutto le determinazioni degli individui promette loro resurrezione, reincarnazione, linea karmica, paradiso o qualcos'altro. Non che giorno verrà il nuovo mondo. È il mondo nuovo che va dall'individuo, non l'individuo che trasformandosi giunge al mondo nuovo. La domanda è incentrata su aspettative costruite nel potere di avere. La risposta appartiene al potere di essere. Se la domanda del potere di avere è che il mondo nuovo venga da me, io non mi modifico. Le risposte che cercate per giungere al riposo vostro, al riposo dei vivi, le avete avute, ma voi non siete stati in grado di riconoscerle e farle vostre. Non siete stati in grado di afferrare il vostro centimetro cubo di opportunità, direbbe Castaneda. Pertanto siete voi che dovete esercitare la vostra volontà e le vostre determinazioni per aggiungere a quello. Non attendete che quello venga da voi. Da voi non arriverà mai qualche cosa dalle nuvole con grande potenza. Dovete essere voi a riconoscere quanto avete attorno e imparare a farlo vostro. E con le parole di un amico devo dire, per trovare uomini di stile di ingegno, volgetti a guardare il nostro tempo. E parliamo al paragrafo 53. Il paragrafo 53 che sul libro è citato sbagliato, allora prendiamo il libro originale, ricordo che i Vangeli Gnostici è stato edito da Adelphi, il 53, vediamo un attimino il 53 della Adelphi, cosa dice. Eccolo qua. I suoi discepoli gli dissero, in Israele parlarono 24 profeti e tutti parlarono di te. Egli rispose loro, avete omesso il vivente che è davanti a voi e avete parlato soltanto dei morti. Questo paragrafo chiarisce come Tommaso si pone davanti alla vita. Questo paragrafo discrimina Tommaso da tutti gli evangelisti ufficiali, tanto esaltati dai cristiani nella loro applicazione dell'orrore. Nei Vangeli ufficiali il Gesù è descritto è il figlio del Dio padrone di cui l'Evangelista descrive le gesta e le prodezze e pretende che l'uditorio si metta in ginocchio. Tommaso Didimo parla di un profeta o di un essere umano analogo a un profeta che sta costruendo il proprio corpo luminoso, cioè il vivente. Tutti i profeti di Israele parlano di te. La risposta è importante nell'aspetto in cui tutti i profeti parlavano ma non costruivano il loro corpo luminoso dentro di loro e dunque hanno disperso se stessi, compreso Giovanni Battista, morendo, mettendo fine alla loro sequenza dei mutamenti. Parlando dei profeti avete parlato soltanto dei morti. La distinzione fra il non essere morto e l'essere morto dipende da come l'essere umano ha sviluppato necessità e intento dentro di lui. E qua non troviamo nessun altro riferimento nei Vangeli ufficiali, o almeno io non l'ho trovato, poi magari ci sarà anche qualcosa che io non ho trovato, per cui d'altronde io lavoro abbastanza a braccio, per cui non ho né sinottici e poca roba anche in computer. Pertanto anche se ho dimenticato un po' di pezzi non è importantissimo, anche se ho saltato dei pezzi o dei pezzi li ho collocato male. L'importante è capire il senso di quello che sto dicendo. E passiamo al paragrafo 54. Il paragrafo 54. I suoi discepoli gli domandarono la circoncisione giova oppure no? Egli rispose loro. Se giovasse il loro padre li genererebbe circoncisi dalla madre loro. Ma la vera circoncisione dello spirito ha trovato piena utilità. Giova la circoncisione? Attenzione, se giovasse il loro padre li genererebbe circoncisi dalla loro madre. Questo passo ci dimostra una certa consapevolezza in Tommaso dei processi di adattamento degli esseri umani. Dal momento che alle giraffe serviva un collo lungo, i loro padri li hanno generato dalle loro madri col collo lungo. Se l'evoluzione umana avesse trovato tratto vantaggio funzionale dalla telecinesi, questa sarebbe diventata una caratteristica normale degli esseri umani. La soggettività o casualità sperimenta la natura premia. Ogni caratteristica fisica è determinata dai padri dei padri e, possiamo dirlo oggi scientificamente, lo dicevano anche gli antichi stragoni, dalle madri delle madri. Ma limitiamoci ai concetti comuni dell'epoca. Il fatto stesso di affermare che una caratteristica fisica, anziché prodotta dall'intervento del Dio, sia prodotto dal padre che genera, è un abbozzo di evoluzionismo con almeno 1700 anni di anticipo. Dal momento che questo tipo di concetti sembra non appartenere all'uso comune, ci troviamo davanti ad uno stragone della forza non indifferente. La circoncisione in se stessa è un atto di pulizia e di igiene, ma la pulizia e l'igiene dello spirito ha trovato grande utilità. La circoncisione dello spirito è l'impeccabilità con cui l'essere umano affronta il mondo e questa è utile per costruire il proprio corpo luminoso. E passiamo al paragrafo 55. Gesù disse, Beati i poveri perché vostro è il regno dei cieli. A prima vista sembra un'esaltazione della povertà, in quanto quelle condizioni garantiscano l'accesso al regno. Il termine povero indica il non possesso, come può indicare chi non è posseduto e nello stesso tempo non possiede, o ancora, chi non fa del possesso per il possesso il fine del suo esistere. Il termine povero sta a indicare una condizione sociale che porta al possesso del regno dei cieli. Non possedendo esseri umani, né essendo oggetto di possesso, si è nelle migliori condizioni per accedere al regno. Un po' come la frase fondamentale, introduttiva, del libro dell'anticristo. La frase comunque si presta di interpretazioni ambigue. Rimane la certezza che chi vive praticando il potere di avere, cioè possedendo individui, non può costruire Dio che cresce dentro di lui. Chi non coltiva il potere di avere, possedendo individui, che agiscono ed operano per lui, è necessariamente povero. In compenso, è sgombro da preoccupazioni del possesso e dell'alimentazione del possesso e può praticare quanto deve, la trasformazione di se stesso, per costruire il Dio che cresce dentro di lui. La frase in se stessa mantiene tutta la sua ambiguità. Il potere di avere trasformerebbe tutti i miserabili, promettendo che avrebbe dato loro alla morte del corpo fisico, cioè quando si sarebbero tolti dalle scatole, il regno. Nei Vangeli ufficiali, l'uso del termine povero non è inteso soltanto come povertà fisica, ma in modo particolare indica la povertà culturale e psicologica. Viene legato all'impossibilità dell'individuo ad uscire dalla propria condizione di povertà e di miseria. Nel discorso della montagna di Matteo leggiamo Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che piangono perché saranno consolati. Beati i miti perché riditeranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sede di giustizia perché saranno saziati. Appare evidente come la miseria non sia mezzo o condizione nella quale l'individuo agisce, ma sia la condizione oggettiva per ottenere il premio promesso. Se la condizione di povero, attraverso una serie di decisioni soggettive, porta alla costruzione di se stessi, ed è discutibile se quella condizione sia la migliore per giungere a ciò, sia nella costruzione dell'uscita della povertà, intesa come indigenza, sia come mancanza di alcune condizioni, assenza di possesso di altri individui, non è comunque oggetto di esaltazione particolare. In altre parole, Tommaso non chiede ad una persona di diventare povera, inteso come indigente, per poter accedere al regno dei cieli. Cosa diversa in Matteo. La condizione di povero viene esaltata fino alle estreme conseguenze. Viene esaltata fino a portare l'individuo a piangere per la disperazione di non essere in grado di affrontare la propria esistenza. In Matteo la condizione di povero è una condizione premiale per l'accesso al regno dei cieli. Perché questa differenza? Mentre Tommaso sta costruendo una via alla conoscenza e alla consapevolezza, partendo dalle condizioni del suo tempo, e deve inserire questa via in tutte le condizioni che sono presenti, in Matteo l'intento è quello di impossessarsi degli individui. Matteo deve costruire un gruppo di persone che vengono premiate per essere parte del gruppo di persone. L'appartenenza al gruppo costruisce i meriti per l'accesso al regno dei cieli. Nel sistema sociale in cui vive Matteo, quali sono le persone e il loro stato sociale interessate a partecipare al suo gruppo? Se presentasse una posizione filosofica sarebbe dibattuta dai filosofi, se presentasse una posizione militare sarebbe dibattuta da militari, ma lui presenta una promozione della miseria e un'esaltazione del suo stato, del suo modo di essere. Questa può essere interessante soltanto per chi vive nella miseria e non è in grado di individuare i mezzi per uscire dalla miseria stessa. E Matteo si guarda bene di fornirglieli, come tutti i missionari cattolici. Proprio perché non è in grado di modificare il suo stato di miseria, o non gli si presentano situazioni per farlo, finisce per esaltare il proprio stato, santificandolo e considerandolo assoluto e meritorio, quasi un dono del suo dio padrone. Questa assolutezza è la condizione premiale per Matteo. La sottomissione alla miseria in quanto tale è la condizione per accedere al regno. Questo è il motivo per cui i cattolici esaltano la povertà negli altri, costringendoli a subirla e utilizzandola nei sistemi sociali per riprodurla. Della miseria i cattolici ne fanno un fine, per i miserevoli ed un mezzo per alimentarla all'interno del sistema sociale di cui si ergono padroni. Della miseria i cattolici imbandiscono la tavola per il loro dio di morte affinché si sfami delle sofferenze del genere umano. E' questo, siamo arrivati al paragrafo 56 di Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Allora, questa è la trasmissione di oggi, arriviamo al paragrafo 56. Vi ricordo che i paragrafi sono 112, mi sembra, e li finiremo un po' alla volta, non è molto urgente. Bene, queste sono le differenze che c'è fra il Vangelo di Tommaso Didimo e i Vangeli ufficiali. I Vangeli ufficiali hanno uno scopo preciso, è quello di costringere gli esseri umani in ginocchio. Il Vangelo di Tommaso Didimo era un tentativo di ricostruire quello che era l'essenza del paganesimo, cioè la capacità dell'essere umano di costruire il Dio che cresce dentro di lui. E questa differenza fra paganesimo e monoteismi è una differenza che è praticamente assoluta, ed è una differenza importantissima anche per decidere le sorti del sistema sociale in cui viviamo. Va bene, visto che mancano poco più di 10 minuti, vi ricordo che i numeri di telefono di radiogamma sono 049-600-700, 049-700-838. Pronto? Oh, ciao, posso farti una domanda? Dimmi. Niente, volevo chiederti, ho sentito, dicevi che l'apprendista stregone dove va nell'ambiente nuovo, dove si trova, si adatta, no? Sì. Cosa vuol dire? Vuol dire che non tenta di piegare il nuovo ambiente a se stesso, però il fatto stesso di arrivarci viene anche modificato. Cioè praticamente diventa anche lui come gli altri? No, 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 non diventa, cioè non è che lui si assoggetta a quello che sono le regole, lui si adatta a quello che trova e dopo mette il suo, mette la sua libertà dentro. Attenzione, cioè non è che va a pregare nella moschea, se va in Islam, non è che si mette a pregare nella moschea, vive nell'Islam ma non si sottomette, sono due cose diverse. Cioè non è che fa proprie le tradizioni di quel popolo e si sottomette a quelle tradizioni. Vedi come un pesce fuori d'acqua, insomma? Siamo sempre dei pesci fuori d'acqua. Beh, insomma, questa è una questione dei punti di vista. Sì, d'accordo. Il problema è questo, esistono due modi per affrontare la vita, o modifichiamo l'oggettività in cui viviamo a noi, oppure noi ci modifichiamo in relazione all'oggettività in cui viviamo. Chiaramente le due cose non sono assolute, hanno sempre bisogno di tutta una serie di mediazioni. E' chiaro che, specialmente davanti a regole di assoggettamento, a regole che chiedono di mettersi in ginocchio, l'apprendista stragone non è che le accetta, le può usare come foglia controllata. Esistono degli stragoni che andavano regolarmente a pregare in chiesa, pur di salvare se stessi, non finire sui roghi e di poter costruire libertà, facevano anche questo. Però non è che noi pretendiamo che un sistema sociale sia adatto a noi, quello che noi sviluppiamo è libertà, però non chiedo che le altre persone diventino pagane come me, assolutamente. Di conseguenza, però, cosa devo fare? Devo fare in modo che la libertà si espanda in qualsiasi oggettività io giungo. Che dopo il percorso qui in Italia, il percorso qua a Padova o Venezia, siano diversi da un percorso di libertà fatto a Teheran o fatto a El Cairo, oppure fatto in Sudafrica o a New York o a Pechino, è chiaro che i percorsi sono oggettivamente diversi. Perché? Perché le condizioni oggettive sono diverse e anche come si esprime libertà in quelle situazioni sono diverse. Infatti noi avevamo detto che esiste tanti paganesimi quanti sono i singoli esseri umani, perché gli esseri umani vivono all'interno dell'oggettività. Non è che sono padroni dell'oggettività, non è che possono percepire l'intera oggettività, ma imparano ad attrezzarsi, cioè si attrezzano per vivere all'interno del mondo, per cui la loro percezione del mondo è relativa a se stessi. E se siamo un milione di esseri umani abbiamo un milione di percezioni diverse del mondo, per cui sfaccettature diverse, concetti diversi, capacità di leggere e di legare i fenomeni diversi. Cos'è che unisce allora il paganesimo, visto che non ha una verità, che non ha una verità da imporre sugli esseri umani? È il respiro di libertà, cioè siamo diversi ma camminiamo nello stesso fiume, camminiamo nello stesso fiume di eternità. E questa è la diversità. Infatti è abbastanza inconcepibile dal punto di vista delle religioni monoteiste, del cattolicesimo nel nostro caso, un'unità diversa che sia diversa da se stesso, cioè che non imponga un altro ribossaco, che non imponga un'altra verità. Perché? Perché i monoteisti non sanno comprendere come l'essere umano sia in grado di percepire il mondo che lo circonda e sia in grado di percepire il mondo che lo circonda come altrettanti dei, come altrettanti esseri viventi. Per un pagano, un Dio è quella persona che oltre a vivere usa anche la volontà, cioè manifesta la sua volontà nelle sue azioni quotidiane, all'interno delle sue determinazioni. Chiaramente la pianta che ho nel vaso non può avere determinazioni diverse se non quella di costruirsi all'interno di quel vaso, perché io ce l'ho messa in quel vaso e probabilmente se la piantassi per terra morirebbe, ce l'ho e la curo in quel vaso, ma lei esercitando la sua volontà in quel vaso trasforma se stessa in un Dio. Questo è il concetto del paganesimo, per cui tutti gli esseri, tutte le forze, tutte le condizioni tentano di espandere se stessi. Gli dei pagani non sono dei da considerare come i monoteisti, gli piace molto dipingere il loro Dio padrone, assoluto, ogni potente, ogni sciente, che poi è una cazzata, ma sono dei centri di energia vitale, sono delle coscienze che costruiscono loro stesse, ma per costruire loro stesse necessitano dell'oggettività, della complessività dell'oggettività all'interno della quale si costruisca. Infatti il mondo pagano è un mondo di dei dove ogni persona, dove ogni essere, dove ogni forza, dove ogni coscienza, dove ogni consapevolezza è in se stessa un Dio che costruisce se stesso nell'infinito dei mutamenti. Questa è la visione pagana. Non può esistere nel paganesimo una visione del grege. La visione del grege c'è là dove c'è una verità, là dove c'è un libro sacro, là dove c'è qualcuno che ti annuncia, che poi la verità ti venga dal Dio padrone, ti venga dal pazzo di Nazareth, ti venga dalla rivelazione degli spiriti, ti venga dalle entità superiori. È sempre una rivelazione nella misura in cui l'essere umano non esercita la propria volontà, non si prende in mano la responsabilità della sua vita e lui usa magari anche la rivelazione, anche l'informazione, la usa, la fa propria e la ritrasforma nell'oggettività. Allora questo ritrasformare nell'oggettività c'è di essere rivelazione perché l'individuo l'assume come propria e la sviluppa come propria. Allora in quel caso non è più una rivelazione, un mio amico mi dà un'informazione, io quell'informazione la prendo, la trasformo, la valuto e la utilizzo nella mia vita. Quella non è una rivelazione e i miei amici sono tanti, cioè i miei amici sono gli dei, per cui non mi viene rivelata una verità che prima era nascosta, ma mi si è data un'opportunità per trasformare in conosciuto qualcosa che era sconosciuto. Per cui gli dei non fanno rivelazioni, gli dei camminano insieme agli amici perché gli amici degli dei sono dei essi stessi e il camminare insieme agli dei è l'accedere all'Olimpo, è l'accedere al Valhalla, è l'accedere al Duat, è accedere al luogo degli dei trasformando ogni essere della natura e ogni essere dell'universo in un Dio. Bene, chiudo qui la trasmissione di magia, stragoneria paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista Stragone, guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan Otto Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo degli Politeisti e Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Grazie per avermi ascoltato e a risentirsi a giovedì prossimo. Giovedì prossimo andremo avanti col Mobbinger e termineremo e andremo avanti anche col Tommaso Didimo. Vi ricordo che ci sono altri due lavori in preparazione, che è un'analisi della teogonia di Esiodo e il crogiolo dello Stragone come dei, gli elementi del crogiolo dello Stragone come dei. Un altro lavoro è stato terminato ed è il pazzo di Nazareth, il Gesù di Nazareth che ordina di bastonare, di torturare, cioè le torture agli esseri umani vengono ordinate dal pazzo di Nazareth. E questa analisi di di questo, di questo digrignar di denti, vi porterò avanti. Grazie per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo.